E' in piano svolgimento l'ottava edizione di Ciac si gioca, festa di apertura dei campionati giovanili di Sporting Tour e siamo col presidente dell'associazione Gian Paolo Morsa. Allora Gian Paolo, da questa mattina alle ore 8, tutti i ragazzi in campo, c'è un grande clima di festa qui a Garbaglia. Sì, devo dire che anche quest'anno abbiamo un bellissimo clima di festa. Siamo riusciti ad invitare 90 squadre, abbiamo 50 squadre questa mattina e altre 40 nel pomeriggio. Il sole ci ha baciato e quindi vediamo tantissima gioia, tantissimo divertimento in mezzi campi. Il nostro obiettivo, la famiglia intorno allo sport, si concretizza sempre in queste manifestazioni. Apriamo la stagione sportiva oggi per arrivare poi alle finali di Alba Triatica. Ci sarà un lungo percorso da ottobre a maggio, intervallato dalle finali dei campionati a Tagliacozzo. La novità di quest'anno, al Parco Hotel di Tagliacozzo, quest'anno si giocheranno le finali che ci permetteranno di accedere alle finali nazionali di Alba Triatica. Una nuova novità. E devo dire che tutti quanti stanno rispondendo nel modo migliore. Noi quando vediamo i bambini giocare, divertirsi per noi è la cosa più bella che ci possa essere. Gian Paolo, abbiamo visto tante vecchie conoscenze, ma soprattutto tante new entry. Segno che un movimento in continua evoluzione, sempre più società, aderiscono appunto a questo tipo di campionati. Sì, tante società nuove stanno aderendo ai nostri campionati e per noi è orgoglio. Io ci tengo a dire una cosa importante. Noi non siamo antagonisti alla federazione italiana al gioco calcio. Noi vogliamo essere i figli della federazione italiana al gioco calcio. Proprio a breve vorrò chiedere un incontro con la FIGC per far capire che noi vogliamo essere un aiuto per loro. Non vogliamo essere antagonisti. E quindi proprio stiamo in tutte le maniere cercando un appuntamento per poi far capire il nostro movimento. Come sempre Gian Paolo, tanti complimenti per l'organizzazione. Oggi è il primo appuntamento che poi ci sposteremo per mesi sui vari campi. Quindi chiedo il tuo augurio a tutti questi ragazzi a corsi qui oggi. Sì, io come dico sempre, buon calcio a tutti, buon divertimento. E dico una cosa molto importante ai loro genitori. Fate divertire i vostri figli. Noi il nostro scopo è far divertire i vostri bambini. Dateci la possibilità di farli divertire. Non li stressiamo con corse continue perché già questo mondo viaggia a una velocità stratosferica. Facciamo divertire, facciamoli giocare in mezzo a campo e al resto ci pensiamo noi.